Giuseppe Ponte continua la stessa vittoria, merito delle scappure, merito tuo, merito anche della pista che è la stessa pista seppur interata e progetta, ma è la stessa vittoria, seppur lo stanno subito con il sogno di un'incontro di un'altra parte della regina. Giuseppe Ponte ha cominciato qui la sua stradaba di ania, tra i tempore verso la torre nierita, perché qui nel primario dei giocoi amici cominciamo a vincere la sua terra butta il mondo, lato 100% e niente 4% una libera di un'incontro di un'unità di un'altra parte della regina.